la rosa ed è salvatore baglio eccolo qui salvatore un applauso un applauso fortissimo perché hanno bisogno dei vostri applausi perché sapete dice un mio collega che saluto francesco anania un bacio che è l'applauso e la benzina dell'artista giusto sergio lo dice lui ecco concorda tu ci porti una canzone di britti dal titolo oggi sono io signori salvatore baglio quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione se le parole fossero una musica potrei suonare ma poi quando ti vede c'è qualcosa che mi blocca non riesco neanche a dire come stai come stai bene con quei pantaloni neri come stai bene oggi come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinati come vorrei poter parlare senza preoccuparmi senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto perché squallido provarti solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente e dirti solo una parola ma dolce più che posso come il mare come il sesso finalmente mi presento finalmente mi presento anche se non te l'ho detto anche se non te l'ho detto perché squallido provarti solo per portarti a letto e non me ne frega niente se non è successo ancora e aspetterò quando è il momento e non sarò una volta sola ma spero più che posso che non sia soltanto sesso questa volta non pretendo preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia e se davvero prenderò il volo aspetterò l'amore amore sia e no non so chi sarei tu davvero forse sei solo un'illusione però stasera mi rilasso penso a te e scrivo una canzone perché dolce più che posso come il mare come il sesso finalmente mi presento perché oggi sono io e oggi sono io oggi sono io e oggi sono io e oggi sono io grazie Grazie.